Oggi 25 aprile che cosa c'è di meglio che fare una passeggiata a lungomare? È vero, anche il tempo però se lo consente. Pomeriggio? Pomeriggio in casa. Siamo venuti a visitare Fano perché pensiamo che sia una bellissima città e siamo camperisti, felicemente camperisti, pensiamo di passare qui tutta la giornata del 25 aprile. Cosa le è piaciuta di più? La parte, la città storica, quindi città romana e anche il lungomare. E oggi si cammina velocemente qua a Lido. Esatto, sì, da casa qui al ponte e poi ritorniamo a casa alla Gimarra camminando veloce. Poi mangerete in casa o andrete al ristorante? No, mangiamo in casa tranquillamente. Se il tempo aiuta potremmo fare qualche camminata ma non lo vedo molto promettente. Altrimenti niente, qui in giro per Fano. Noi siamo di Milano, di oggi siamo qua, ci stiamo vedendo il panorama, ovviamente un pensiero va al nostro 25 aprile, alla libertà che abbiamo conquistato e alla memoria storica per mantenerla sempre. E il 25 aprile è anche occasione per far giocare i propri cani in spiaggia? Sì, sì, dai, ci sta oggi una bella giornata insomma. Vivo, di dove siete? Fondi, provincia di Latina. E da quanti giorni siete qua? Da ieri. Stasera ripartirete? Stasera ripartiamo, sì. Vi piace Fano? Sì, molto bella. A pomeriggio farete una passeggiata anche fuori Fano o rimarrete qua? Sappiamo che c'è una fiera da queste parti e volevamo andare a fare un salto alla fiera. E invece? Voi di dove siete? Allora, io dalla provincia di Milano. Lei? Belluno. E lei? Belluno. Come mai avete scelto Fano oggi? Ma noi siamo venuti a Fano, loro lo conoscevano già, vengono da tanti anni. Abbiamo approfittato di questo ponte, visto che è una bella meta, che offre sia qualcosa di interessante dal punto di vista magari culturale, storico, sia il mare, per cui ci siamo godute anche l'aria buona del mare, visto che inizia la bella stagione. Voi di dove siete? Allora, siamo Umbre, io da Foligno. Orvieto? Perugia. Come mai avete scelto Fano? Per passare una giornata insieme al mare. Quindi solo oggi? Sì, sì, solo oggi. Poi siamo di ritorno questa sera. Poi ovviamente andiamo anche a mangiare, approfittiamo anche della giornata. Zona mare? Sì, zona mare, sì. Quindi adesso infatti stavamo dentroci. Il 25 c'è chi si diverte ma c'è anche chi lavora. Giustamente, tipo qua a Fano, dal 23 che hanno appunto fatto questa fiera dell'artigianato, noi veniamo da giù, da Avellino. E sì, siamo venuti qui per lavorare perché giustamente c'è chi fa le ferie, chi viene al mare, chi si va a fare una bella passeggiata per Fano. e noi lavoriamo qua appunto per i clienti che passano e vedono. Sono Giordano Montanari, sono un appassionato dei quadri. In particolare abbiamo preso la classica seppia, due gamberi rossi, in particolare un cavaluccio marino che era di Cianni che non si vedeva più. Quindi questo è un buon segno, vuol dire che c'è l'acqua pulita. Cianni che c'era questo, poi se...